trebimeteo.com consulta le previsioni sempre aggiornate su trebimeteo.com Previsioni del tempo per venerdì 29 aprile. La presenza di una saccatura in quota che pilota aria più fresca da nord-est determina il rinnovo dell'instabilità tra mattino e pomeriggio su Puglia, Molise, Rilievi e localmente sulle zone adiacenti. In Puglia al mattino sulle coste tempo soleggiato ma con nubi sparse. In pianura nubi irregolari con locali acquazzoni che si sposteranno al pomeriggio sul litorale lasciando spazio a schiarite prevalenti ma con possibili temporali passeggeri. In Basilicata al mattino sulle coste schiarite alternate a nubi sparse. In montagna tempo uggioso con deboli piogge. Nel poveriggio nubi irregolari con locali acquazzoni su tutta la regione. Anche in Molise al mattino sulle coste schiarite alternate a nubi sparse. In montagna nubi irregolari con locali acquazzoni che si estenderanno al pomeriggio nel resto della regione.